Un cumulo di rifiuti stipati all'interno di un terreno delimitato da un cancello, una sorta di isola ecologica situata in via elevata a Favria, si è incendiato nel pomeriggio di venerdì 13 ottobre poco prima delle 17.30. Sul posto sono prontamente intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco di Ivrea e i carabinieri di Rivarolo Canavese. Le fiamme sono state domate e spente. All'interno del deposito c'era un po' di tutto, dai materassi a bomboledie acetilene CO2 vuote, messe in sicurezza dai Vigili del Fuoco, accertamente in corso sulle cause del robo. inscriviti al carico. Grazie a tutti.